Una morte assurda, una donna di 71 anni è deceduta ieri mentre era a passeggio con il cane. Maria Baldo, residente in via Marconi a Voe Euganeo, era uscita per una semplice passeggiata. In via Camorosini, la bestiola per farle delle feste, le è saltata attorno, attorcigliando il guinzaglio alle caviglie della padrona, la quale ha perso l'equilibrio ed è caduta. Maria Baldo è piombata dentro la profonda canaletta che si trova all'autostrada. A dare l'allarme sono state alcune persone che abitano vicine, che hanno chiamato subito il 118 e i pompieri. Sul posto è arrivato l'elisoccorso del suo e i vigili del fuoco del distaccamento di Este. Le manovre per estrarre la donna dalla canaletta non sono state semplici. Maria è rimasta a terra con una ferita alla testa per molti minuti e quando i soccorritori l'hanno portata fuori, le sue condizioni apparivano disperate. È morta dopo qualche ora all'ospedale di schiavonia, dove era stata portata d'urgenza. È toccato alla polizia locale di Este fare tutti i rilievi e soprattutto è toccato agli agenti della locale avvisare della terribile tragedia alla famiglia di Maria, che nel frattempo era arrivata in ospedale credendo di dover affrontare solo qualche frattura e una lunga degenza.